I disturbi d'ansia sono un insieme di disturbi psichiatrici caratterizzati da forme di paura e di ansia ingiustificata o patologica che si accompagnano spesso a manifestazioni psicosomatiche che creano notevole disagio all'individuo. Esiste un'ampia varietà di disturbi d'ansia. I più comuni sono il disturbo d'ansia generalizzato, il disturbo di panico, l'ipocondria, la fobia sociale, le fobie specifiche, il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo post-traumatico da stress. Spesso tali disturbi si accompagnano a quelli dell'umore. Secondo le statistiche, fino al 30% delle persone soffriranno nel corso della loro vita di un disturbo d'ansia con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini e con i sintomi che generalmente insorgono prima dei 25 anni di età. Tra incertezza, paura e desasperazione, il Covid-19 sta continuando a creare una condizione emotiva difficile. Lo ha spiegato la dottoressa Giorgia Mainardi, psicoterapeuta di Humanitas San Pio X. Lo stato d'ansia portato dalla pandemia ha assunto diverse forme. Per esempio, molte persone hanno affrontato la perdita del lavoro, le difficoltà economiche in famiglia, la distanza forzata con la persona amata, la riduzione della possibilità di socializzazione, opportunità lavorative, di studio, di vita che forse non torneranno mai più. Oltre a questo difficile stato d'animo si è aggiunta anche l'ansia riguardo alla malattia stessa. In molti, infatti, è comune la paura di infettarsi, di incorrere in potenziali complicanze anche gravi, di contagiare persone care. L'ansia può essere positiva se spinge ad adottare le norme di prevenzione del contagio e comportamenti responsabili per proteggere la salute di tutti. Ma in molti casi, l'ansia legata al contagio da Covid-19 ha avuto un impatto negativo sui pazienti che già soffrivano di ipocondrismo, ansia da malattia, e sui pazienti affetti da disturbo ossessivo-compulsivo da contaminazione. Allora, avrete capito, oggi parliamo di gestione dell'ansia. Buongiorno a Daniela Luzzi. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, ben trovati. Lei è psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, consulente tecnico di parte, orientatrice scolastica e professionale accreditata nella regione Marche, nonché docente di psicologia e comunicazione. Allora, partiamo da principio, abbiamo avuto qualche spunto dal nostro servizio, però cerchiamo di comunicare ai nostri telespettatori che cos'è l'ansia. Il malessere che colpisce molti di noi non è altro che l'espressione psicofisica dell'emozione chiamata paura. Oggi la chiamiamo in diversi modi, viene anche denominata ansia. E attiva uno stato psicofisico chiamato attacco-fuga. Che cos'è la paura? La paura è un'emozione primaria, comune nell'uomo come nel mondo animale. E lo possiamo definire come un salvavita. Ci mette nelle condizioni più favorevoli di salvarci la vita, semplicemente. Però dobbiamo fare delle puntualizzazioni. Il servizio anticipava molto bene di cosa si tratta al mondo d'oggi, questa emozione a che cosa si riferisce. Nasce nel momento in cui io ho una situazione e un pericolo reale, per cui mi si attiva l'emozione della paura, quella che cognitivamente io percepisco come paura, un pericolo che mi dà una previsione, quindi io prevedo per le mie esperienze passate, le mie conoscenze, un pericolo, oppure per un ricordo, quindi la paura si attiva in base a un ricordo, quindi anche un evento traumatico può riattivarsi in paura, riattivare questa emozione, oppure la fantasia. Ecco perché molti genitori dicono di avere dei bambini che erano stati molto tranquilli da piccolini e poi iniziano una fase di vita in cui sviluppano delle paure, perché il mondo della fantasia diventa più vivido, diventano più capaci e quindi anche una fantasia può innescare l'emozione della paura. Che cosa succede? Attacco-fuga che cos'è? Semplicemente a livello corporeo si attiva tutto un sistema, un meccanismo che ci permetta di fare uno scatto, di attaccare o di scappare. Quali sintomi abbiamo? Ecco appunto, come si traduce poi, no? Quali possono essere i sintomi fino ai casi più estremi? I sintomi sono quelli di un'attivazione generale, di uno stato di vigilanza, una frequenza cardiaca, quindi il battito cardiaco che aumenta nella sua frequenza, lo stesso di casi per la respirazione, quindi un apporto maggiore di aria, diminuzione della salivazione e rallentamento della digestione, perché se io devo affrontare un imminente pericolo fisico, che può essere l'attacco di un animale feroce o un nemico armato, perché originariamente la funzione adattiva era questa, eravamo uomini primitivi per cui nel momento in cui andavamo in giro dovevamo stare attenti a bestie feroci e nemici armati. e quindi la nostra mente e il nostro corpo simultaneamente si preparavano per l'attacco e la fuga. Vediamo bene come tutti i muscoli si preparano a questo evento, un evento che può essere drammatico e ci mette appunto nella condizione di essere più al sicuro possibile. Certo, però con quali conseguenze poi nel momento in cui questa previsione che deriva dalla nostra paura viene estremizzata, no? Non funzionare, perché in realtà oggigiorno possiamo considerare rare quelle situazioni in cui realmente noi dobbiamo fare uno scatto. Mi viene in mente degli esempi che stiamo attraversando la strada, improvvisamente ci accorgiamo che una macchina sopraggiunge velocemente, siamo pronti ancora prima di renderci conto che stiamo facendo un salto, l'abbiamo già fatto. Senta, si può soffrire d'ansia anche senza che ci sia un reale pericolo? Sì, assolutamente sì, perché la definizione dell'attivazione di questa emozione è il pericolo percepito, cioè io con la mia mente, col mio sistema cognitivo, leggo le situazioni come pericolose, quindi non che siano realmente pericolose. Ed è oggi la situazione più frequente che ci troviamo a vivere, quello per cui molte persone contattano, ci contattano al centro clinico chiedendo proprio un aiuto. L'ingestibilità di quelli che sono sintomi nati per salvarci la vita e ce la rendono invece intollerabile, molto complessa, molto difficile, molto faticosa. Non riesco nelle mie giornate ad alzarmi, a viverle serenamente e affrontare eventuali difficoltà, perché sono già stanco, sono già provato, sono poco concentrato. Inoltre, per esempio, il sistema immunitario rallenta la produzione di anticorpi e aumenta invece la possibilità di coagulazione del sangue. Di questo ne parliamo tra poco, perché poi in realtà si lega anche al discorso dell'emergenza sanitaria in atto. Però prima volevo chiederle, restando un attimo sui sintomi, è possibile che durante l'infanzia un bambino che soffra d'ansia in qualche modo possa anche sviluppare dei tic nervosi? Assolutamente sì. Le sintomatologie, poiché secondarie che possono derivare da uno stato d'ansia, sono diverse. Anche sintomi somatici, come dermatiti, oppure difficoltà del sonno, di regolazione proprio emotiva. Infatti il servizio diceva che poi c'era una difficoltà nel gestire anche il tono dell'umore, quindi tristezza, oppure al contrario un stato di eccitazione, incapacità proprio a gestire le emozioni che scaturiscono nelle varie situazioni. Quindi insomma può comportare delle situazioni davvero difficili. Diciamo il termine adatto che mi viene in mente è maladattive, cioè quando un individuo proprio vive un malessere in tutto quello che fa, perché poi se lo ritrova diciamo un po' mi viene in mente che è come un odore che accompagna la persona tutto il giorno in tutte le attività, nel lavoro oppure a scuola e quindi questo malessere che diventa come un'ombra che segue. Prima o poi diciamo tutti noi conosciamo i famosi attacchi di panico oppure questi attacchi d'ansia, ma quando secondo lei bisogna farsi aiutare? Nel momento in cui diventano molto frequenti, perché in realtà le persone si rivolgono agli specialisti quando non ne possono più, quando è invalidata proprio la capacità lavorativa oppure scolastica c'è la persona. Però l'ansia non può essere eliminata totalmente dalla nostra vita, perché in realtà un lieve livello d'ansia ci mette quella vigilanza in più, ci attiva la memoria, ci rende più funzionali. Se noi siamo completamente rilassati o completamente non consapevoli di noi stessi, non attivi, non affrontiamo bene un esame, una prova, una verifica a scuola, un lavoro. Siamo più vigili in quello che facciamo se siamo un po' preoccupati. Nel momento in cui però i livelli diventano esagerati abbiamo un'inversione di tendenza, cioè non è più utile questa emozione per tenerci svegli, per essere accorti e attenti in quello che facciamo, ma diventiamo confusi, la vista appunto più annebbiata, perché in realtà abbiamo meno ossigeno, immettendo molta aria non riusciamo poi ad espellere l'anidride carbonica. Chissà quante persone in ascolto ora potranno fare una riflessione su se stesse e riconoscere come si è aumentato il proprio stato di ansia in questo anno segnato dal Covid. E questo è un fatto. L'altro lo aveva anticipato lei stessa prima quando parlava di difese immunitarie, quindi il perpetrarsi di un stato d'ansia che abbassa le nostre difese immunitarie, di cui abbiamo tanto bisogno in questo momento. Quindi ecco come si lega l'ansia all'emergenza pandemica? In questo caso nel servizio la paura, il timore concreto di un contagio ci mette in uno stato d'ansia, di paura. Che succede? Se io però continuamente ascolto delle notizie riferito ai contagi, alle morti eccetera, e mi attiva in continuazione durante la giornata e dall'anno scorso, siamo molto sensibili a questo tema eccetera. Siamo colpiti, siamo stati colpiti, molte famiglie in prima linea da lutti e comunque problematiche anche trasversali, ma nella vita quotidiana importantissime come il lavoro, che cosa succede? L'attivazione del sistema attacco-fuga nato proprio per salvarmi la vita, fa rallentare la produzione di anticorpi perché io al momento la mia priorità è magari la coagulazione del sangue per una ferita. E quindi non producendo anticorpi purtroppo vado proprio incontro a lungo termine a un rischio che è quello di contrarre patologie, di ammalarmi, sono più delicato. Certo, certo. Quindi l'importanza di una gestione sana dell'emozione ansia mi porta ad essere più efficace nella vita, più efficace nel lavoro, ma più lucido, più capace e con più strumenti proprio per affrontare quelle che sono le difficoltà. Quando ci si attiva l'attacco-fuga e quindi tutti i sintomi dell'ansia che poi sfociano nel doloroso, nel preoccupante attacco di panico in cui le persone hanno realmente la sensazione di stare per morire, di perdita totale del controllo mentale e anche fisico. E spesso si hanno questi sintomi in delle situazioni che può essere nel supermercato, non al sicuro dove sono con una persona cara, una mia amica, eccetera, ma mi succede al supermercato, nel traffico, in delle situazioni stressanti. Allora in quel momento io ho tutta l'espressione più patologica, più disfunzionale dell'emozione dell'ansia e dell'attacco-fuga. Quindi una sana gestione dell'ansia ci permette di essere più pronti alle problematiche. Dovesse avere una difficoltà sul lavoro, riuscirò ad affrontarla meglio. Quindi possiamo gestirla personalmente l'ansia? Assolutamente sì. È un messaggio positivo quello che sta inviando? Perché sicuramente chi ci ascolta magari ha un disagio spiccato, penserà ma come devo fare, come devo uscirne, a chi posso rivolgermi, per qualche informazione la si può contattare per esempio? Certo, sicuramente le persone ci contattano sia per loro stesse che per i familiari, anche spesso per i bambini, perché tanti bambini, le paure sono fisiologiche. Dicevo prima che molti genitori dicono mio figlio era sereno e poi ha iniziato ad avere delle paure. Ecco c'è un'età in cui la paura è fisiologica, la paura del buio, la paura del mostro. Quelle sono tappe evolutive perché significa che la mente si sta evolvendo e quindi c'è più capacità anche di astrazione e immaginazione. Per quanto riguarda invece delle situazioni gravi di attacchi di panico che inficiano proprio il funzionamento, lì ci si deve rivolgere, è consigliabile rivolgersi a uno specialista, a uno psicoterapeuta e nei casi comunque fa riferimento anche al medico di famiglia e assolutamente mi permetto di fare un appello perché tante persone dicono ah sì mi sono presa delle pasticche più o meno identificate perché le prende l'amica di mia madre, mia zia o non so chi. Ecco ognuno è importante che si rivolga allo specialista. Quindi l'ansia non dobbiamo pensare di annullarla totalmente perché in realtà dobbiamo funzionare con essa. È un campanello d'allarme che ci dice attento, secondo me c'è un pericolo. La nostra mente ci dice c'è un pericolo, va valutato se è reale o è stato sovrastimato. E pure dottoressa c'è chi convive con l'ansia per una vita, no? Quindi senza riuscire a dormire per un'intera notte, avendo sintomi che poi compaiono ma permangono per lungo tempo. Queste persone che non credono più in una risoluzione, cosa possiamo dire? La domanda che mi viene è cosa hanno fatto di strutturato, cioè se hanno fatto qualcosa di strutturato per realmente attaccare lo stato cronico dell'ansia, quello che dicevamo prima, il più pericoloso. Possiamo dire due cose. Da una parte, nel momento in cui percepisco l'ansia, devo in realtà mettere in atto quello per cui il sintomo psicofisico, attacco-fuga, è stato creato. Quindi io devo dare uno sfogo fisico alla manifestazione sintomatologica. Fare una camminata, fare una corsa, fare le scale, quindi muovermi piuttosto che rimanere fermo, mi permette di farla fluire. Proprio come un'onda, cresce, si manifesta e poi scema. Quindi se io riesco e la secondo, sono in ansia, posso farla andare via. Quindi quel grande picco che mi causa malessere può scemare facilmente, diminuire. Quella a lungo termine, nel senso che spesso, troppo spesso, mi accompagna, eccetera, va affrontata in un altro modo, nell'aspetto cognitivo, cioè quello che io valuto come pericoloso, il pericolo percepito. Quindi, devo fare una riunione di lavoro con il mio capo? Quali sono in realtà i pensieri che si stanno generando nella mia mente? Sarà un disastro, il capo si accorgerà che non sono preparato, oh mio Dio, rischio di perdere il lavoro, se non farò bella figura i colleghi penseranno che non valgo niente, che sono un raccomandato? Capiamo bene come questi pensieri diventano rigidi e mi procurano ansia, perché non sono reali, basati su fatti reali, ma sono semplicemente delle generalizzazioni negative su di me, sulla situazione. Quindi quello che consiglio di fare poi anche in terapia è il fatto di scrivere quanta ansia ho, fare dei report, se tutto il giorno ho l'ansia, ho l'ansia, realmente, o in dei momenti, o prima di certe situazioni. Dopo questi report valutare il grado, perché magari è 3 su 5, 5 su 5, 1. Insomma, fare un po' i notai di noi stessi. Delle emozioni, esatto, un diario di emozioni. E poi scrivere quali pensieri ci sono dietro, perché sono quelli. Se io ero un uomo primitivo, sono un uomo primitivo, vedo un cespuglio che si muove e mi chiedo, leone o coniglio? E questa domanda a cui io non so dare risposta mi attiva l'attacco fuga. Se devo fare una riunione e io mi chiedo, andrà bene il capo, no, mi richiamerà, farò una figuraccia? Ecco qua che mi sto chiedendo se c'è un leone che mi aspetta. Insomma, speriamo di aver sollevato qualche quesito nella mente dei nostri telespettatori. Torneremo a parlare di questo ed altro. Io ringrazio intanto la dottoressa Danila Luzzi per essere stata con noi. Grazie, grazie ancora. Grazie, buona giornata. Noi andiamo in pubblicità ma torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.